Tutti i grandi sono stati i bambini ma pochi se lo ricordano, dice il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupery ed è proprio questa verità troppo spesso dimenticata a spingere i volontari del Sermolfette a rilanciare il progetto ambizioso San Nicola Sei Tu. Potremmo definirla un'iniziativa solidale che coinvolge grandi e piccoli con l'obiettivo di far vivere un momento di felice spensieratezza il giorno di San Nicola ai bambini meno fortunati. Capita infatti che presi troppo da noi stessi e dalle esigenze nostre o dei nostri figli. Dimentichiamo che non tutti possono godere della magia di questo momento e proprio perché non in tutte le case è possibile vivere emozioni simili. A Molfetta dove la tradizione di festeggiare i bambini il 6 dicembre è ancora molto forte sentita ci hanno pensato i volontari a raccogliere giocattoli nuovi o comunque in ottime condizioni. Un gesto che fa bene a genitori e figli, a chi riceve ma anche a chi dona. Non è richiesto alcun gioco in particolare tutto ciò che può donare un sorriso e ben accetto spiegano dal Sermolfetta. Molti dei nostri ragazzi ormai da giorni ricevono da tantissimi cittadini, da alunni di alcune scuole, da anche da bambini che dividono, vogliono condividere i loro giocattoli con i loro coetanei del materiale ludico, del materiale alimentare che può aiutare tutti a vivere meglio questo momento. La raccolta è attiva presso la sede del Sermolfetta di via Palmiro Togliatti dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.